Arrestati dai carabinieri della compagnia di Ivrea per detenzione ai fini di spaccio, due giovani ventunenni residenti a Volpiano, autotrasportatori con pregiudizi di polizia. I militari della stazione di San Giorgio Canavese, durante un servizio perlustrativo in arco serale nel comune di Rivarolo Canavese, hanno sottoposto i due giovani che viaggiavano a bordo di un furgone a controllo, scoprendo all'interno del mezzo, accuratamente nascosta, una busta contenente 500 g di marijuana. La successiva perquisizione, estesa a un piccolo magazzino in uso di due giovani, sempre nel comune di Rivarolo Canavese, ha consentito di trovare un'altra confezione termosaldata, sempre da 500 g. Su disposizione dall'autorità giudiziaria e poridiese, i due giovani sono stati sottoposti alle resi domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio, con rito direttissimo fissato nei prossimi giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.